Ciao a tutti, buongiorno, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della Pixemon. Prima che inizi il video vi devo avvisare di una cosa molto importante. Questo episodio ha un titolo un pochino così, però fidatevi che ne vale la pena guardarlo tutto. Ci sono stati tanti partecipanti in questo video, da Eren a Tano a Marco, cioè veramente è stato devastante. Sono riuscito a tirare su un video così ed è secondo me molto divertente e addirittura anche in certi versi esilarante perché veramente, guardate, lo fa troppo ridere. Mi raccomando lasciate un mi piace, ci tengo davvero tantissimo e vi volevo ricordare che il 21 e il 22, quindi fine settimana, sarò al Malpensaferi insieme ad Eran e Martina. Fatemi sapere nei commenti se ci sarete e nulla, ora vi lascio al video che non ha neanche un intro parte proprio così devastante e bella. Allora, partiamo dal primo posto che non mi ha registrato l'audio per i primi tipo 4 minuti di video e nulla ragazzi. Sono riuscito ad ingaggiare Latias e a portarla ad un PS di vita, addirittura paralizzandolo. Tuttavia poi l'ho usato un cura di stato e mi ha ucciso Pikachu, quindi non avevo più la possibilità di riparalizzarlo. Ora niente, vi lascio dal punto in poi in cui lui è a un PS e vediamo se riuscirò a catturarlo. Raga, stavo parlando mutato, 6 minuti mutato. Vabbè, sono qui con Latias, vabbè ve l'ho detto, sicuramente avrò parlato sopra prima. Comunque niente, ritorniamo qui, stavo solamente dicendo un po' di cose sul fatto che è molto difficile catturare i Pokémon della nuova generazione per il semplice fatto che, non lo so, non lo so proprio, non lo so proprio, Latias è liberato. Eeeh, Zaino, Pokéball, Scuroball, la vedo davvero dura, la vedo davvero dura. C'è proprio una sfiga incredibile con questi, con questi nuovi Pokémon, davvero. Si continua a liberare, raga. Si continua a liberare, questo continua a dormire, questo se la dorme proprio brutalmente. Cavolo, raga, siamo, abbiamo superato almeno i 30 turni tutti. Ora, sicuramente li avreste visti tagliati, però, zio Pera, è impossibile non riuscire a prendere un Pokémon, cioè, così, davvero, è qualcosa di pesante. È pesante come cosa. Vediamo se si sveglia sto pirla. Ti puoi svegliare pirla? Svegliati, pirla. Ok, meno male che si è riaddormentato. Ok, Zaino, Pokéball, Scuroball, raga, è notte, è notte. Ora, la cosa migliore, prendo come una Scuroball, a parer mio. È pesante. Cioè, siamo a un turno davvero esagerato, raga. Siamo a 12 minuti di registrazione, il che vuol dire che siamo più del trentesimo turno. Una Timerball deve funzionare, deve funzionare. Però si libera, cioè, si libera come se fosse niente, raga. È pazzesco, è pazzesco, davvero. Non so cosa dire, raga, non so che cosa dire. È pazzesco e basta. Uno, due, due. Ne fa due, raga. Non lo prenderemo mai, raga, non lo prenderemo mai. Non lo prenderemo mai. La vedo davvero dura, la vedo davvero due. Dura davverissimo, cioè, veramente, non so come prenderla, raga. Scuroball, due, ora si libera. Strano, si è liberato. Ora dobbiamo rifare un attimo il riposo. È spawnato un altro, raga, è spawnato un altro, raga. Raga, è spawnato nel Beach Bayon, mommolo, di quagli... Vabbè. Cioè, raga, se non lo prendiamo adesso... Cioè, noi potevamo... Ci sono spawnati due leggendari, ma non riesco a prendere questo Lattis. Volendo adesso io potevo andare a prendere addirittura quel Suicun, volendo, per dirvi, eh. Ma non è possibile, perché cosa è che fa? Lui è un pirla e continua a non uscire. Continua a uscire. Continua a uscire, raga. Continua a uscire. Oh, e vai. Enterà prima o poi? No, non enterà mai, non enterà mai. È pazzesco. È pazzesco, raga. È... È incredibile sta cosa. Davvero, non so come definirla. Ah, si si libera subito. Le uniche ball, secondo me, che possono darci a mano sono le timer in questo momento. Le timer e basta. Non so, sono le uniche forse che mi viene in mente che possono fare qualcosa. Ma guardate, esco subito. Subito, subito, subito. Cioè, una timer ball dopo un po' di pietro dovrebbe essere più efficace di una ultra bolla, ma non è più efficace. Cioè, è ridicola sta cosa. Andate se si è liberato subito. Perfetto. Andiamo solo di ultra ball, raga. Solo. Solo, solo di ultra ball, assolutamente. Basta. Se si liberi subito, andiamo subito e solamente di ultra ball. Io davvero ho perso le speranze di prenderlo. Prima ho detto, ma sì, tanto prima o poi lo prenderò. Invece mi sa che non sarà proprio così. Non sarà così. Ha preso il contraccolpo, si è ammazzato, raga. Ha preso il contraccolpo e si è ammazzato. Non ci voglio credere, raga. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, raga. Si è ammazzato Latias. Si è ammazzato Latias. Si è ammazzato Latias. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere, raga. Ora andiamo a vedere se becchiamo sto Suicun. Eh, magari abbiamo fortuna. Magari è spawnato addirittura nell'isola piene. Vediamo un po' se è qua. Raga, è qua. No, mi sembra di averlo visto qua. Mi sa che... Eccolo qua, raga. Pikachu. Vuoi di Pikachu? Raga, Suicun. Ci consoliamo con Suicun. Va che ci ammazza del tutto. È paralizzato. Pokémon. Zangoose. Li facciamo... Minchia, ci ha shottato con l'unico consfalso finale che aveva, ma mi sa che non gli fa niente. Mettiamo gli Samens. Li provo a fare tipo Dragartigli. Sperando che non gli faccia tanto danno. Vai gli Dragartigli di nuovo. Ok. Ora è il momento di usare una Velox Ball. È il momento di usare una Velox Ball. Vediamo magari che riusciamo... Cioè, veramente, raga. Mi viene troppo da ridere, mi viene. Mi viene troppo da ridere, raga. Ve lo giuro, mi viene troppo da ridere. Davvero. Non so. Mi viene troppo da ridere, raga. Ve lo giuro, mi viene da ridere. Mi viene da ridere un botto, mi viene da ridere. Perché, cioè, non è possibile. Due le... Cioè, volete vedere che noi perdiamo anche questo leggendario qua? Lo perdiamo anche lui? Perdiamo anche Suicun? Raga! Abbiamo catturato Suicun. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. C'è Tano che forse è su TS. No, non c'è su TS. Abbiamo catturato con la Scuribol e non è giorno. Cioè, non è notte. Ah. Ah. Va bene così. Va bene così. Almeno un leggendario l'abbiamo catturato. Certo, oggi voleva essere un giorno nel quale catturavo Latias. Però... Ci accontentiamo lo stesso. Andiamo subito a vederlo a sto punto. Andiamo a vedere il nostro Suicun. Andiamo a vedere il nostro Suicun. Suicun, come direbbe il buon Sime. Anzi, in realtà lo dico io, Suicun. Vediamo un po' com'è il nostro Suicun. Apri, 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 apriti. Ci manca solo Raikou per fare il leggendario figo, ragazzi. Lo sapete? Ci manca solo Raikou. Vediamo Suicun. Mi pare che l'ho preso davvero con la scuro ball di giorno, raga. Con la scuro ball di giorno. E niente. È andata così. È andata così. Raga, è mio. A scuola. Raga, Latias. È sposo di fianco. È mio o Latias? Latias, Latias. Non so come ingaggiare, raga. Aspetta, wait. Ok, l'ho ingaggiato. L'ho ingaggiato. Aspetta, vado a chiudere la porta. Chi è? Me l'ha ucciso. Mi sta uccidendo. Latias ha un PS. Latias ha un PS. Zaino. Poi. Pockeball. Ultraball. Alla prima. Alla prima. Sì, guarda. Con la fortuna che ho, Simo. Ma esce subito. Con la fortuna che ho, esce subito. Ormai lo catturi. No, sei liberato. Quindi non riesce a paralizzarlo? No, ma me l'ha ucciso tanto Pikachu. Ma perché? Non lo so. Io, ragazzi, vi dico solo che ho 44 bolle. Lui, tanto al sessantesimo turno, muore. Cioè, si farà scontro. Ma morirà. Latias si è liberato. Perché Latias ha usato io al Pulse. E mi ha... Perché mi ha curato Zanguzzi? What the fuck? È vero. No, no, è vero, è vero. C'è là quella mossa lì. Io me la sento. Vado da scuro poi. Di giorno. Che prima mi ha preso Suicune, baggata insieme a quant'è, secondo me. Secondo me è bisogno di una fortuna anomala proprio. Infatti è uscito. Voglio piangere. Ragazzi. Tano quando la tira pesa. Ragazzi, posso piangere. Ha un PS di nuovo. Cioè, sarebbe una cosa... Cioè, sarebbe il video nel quale io perdo i leggendari e basta. Vabbè, c'è chi non li vede nemmeno. Marci, noi crediamo in te. No, guarda. Ma ciò non vuol dire che lo catturerai. Però crediamo in te. In effetti è vero. No, no, no. L'età mi vuole dal ventesimo turno. Trentesimo. Ma guarda, te quando ti annoi della battaglia cominci a tirare quella. Ho capito, ma questo è il sessantesimo turno, raga. Finisce le mosse e mi fa scontro e muore. Quindi cosa faccio? Continuo a usare le Ultra Ball. Ha un PS e questo non entra. E non entra, non entra. Allora, adesso, ora come ora, puoi usare le Ultra Ball. Scurro Ball... È quasi notte. Non ti servono. Quando sarà notte usi le Scurro. Sta tramontando il sole. E allora aspetto proprio. Aspetto proprio. Sto fermo. Sto fermo e aspetto. L'unica cosa mia... Ho pure uso qualche... Ho pure uso qualche timer. Ho pure tutto. Raga, stiamo redissando da circa sette minuti. Eh, ma la timer ball non dipende dal tempo, ma dai turni. Eh, sì. In sette minuti dici che non abbiamo fatto già un venticinque turni. Raga, un PS. Cioè, non è che dici che ne ha venti, trenta, ventuno, sette, quattora... La differenza la fa dannatamente il cambio di stato. Un PS da solo non basta. Ma prima aveva un PS paralizzato. Non sono riuscito a prenderlo lo stesso, te lo giuro. Lo so. Ma adesso un PS basta. Devi essere fortunato. Eh, la fortuna della mia parte è mai, guardo. Io li cambio Pokémon. Tipo, li metto... Li metto Gardevoir, magari... Si spaventa e mi guarda... Dicevo, cazzo, figa, troppo forte, cazzo. Raga, io vado ancora di Scurbo, ne ho quattro. Io ci credo. Io ci voglio... Raga, bisogna crederci fin dall'inizio. Perché se non ci si crede fin dall'inizio, è finita. È finita. Noi lo prendiamo, raga. Stavolta lo prendiamo. Ne sono sicuro che lo prendiamo, raga. Ne sono certo che lo prendiamo. Latte si è liberato. Perfetto, raga. Perfetto. Stiamo facendo un video. Di ultra bollea e robe simili, ne monti oppure no? No, io ho un botto, ne ho tipo 30. Ma questo è il sessantesimo, tu non usa scontro e muore. Io credo in te, nel cuore tuo. Raga, e attendi all'infinito. Marciuto, marciuto. Raga, mi sa che sei bloccato. Attendi all'infinito vuol dire che ti sta morendo. Magari ti crasha anche. Sei liberato. Posso più? Io voglio piangere, raga. Cioè, voglio un cazzo di Latte, anzi di merda. E non ci riesco. Non ci riesco. Sei liberato. Sei liberato. Io lo chiamerò Latte, io sto video lo chiamo Latte di merda. Posso chiamarlo Latte di merda? Perché Latte fa schifo. Come dipende quando esce? Perché fidati? No, Latte sei una merda. E anche io, prima, il mio, dopo primo turno, ha fatto Memento e si è ammazzato. Sì, ma io, il tuo è, ok, ci sta, al primo turno. No, non ci sta, Marci, ma mi è venuta primo turno. Non ci sta, Dio. Ok, ma il primo turno ci sta. È successo anche a me. Ma ci sta, capisci che, cioè, alla fine ti fai una ragione al primo turno. Cioè, io prima ho fatto 26 minuti di registrazione e mi è morto con scontro perché aveva finito le mosse. Capisci che è impossibile che ti resta a me. Lui è una merda. Lui è una merda, raga. Lui dovrebbe... Si è ucciso. Si è ucciso? Col contro a colpo. Quanto è triggerato in questo momento. Voglio piangere, raga, ve lo giuro.